Eccola è difficile trovare la capra di YouTube è così, ragazzi perché il minore è della cava se volete tra i miei pignoncetti dai ragazzi, arriviamo qua a me grazie sono 3 asadas in total, devo 2 pavos un besito Allora, trai tutto fresco Robert Molto rapido Molto rapido Asi no Sì, non è un piatto. Eccolo. Ego. Eccolo. Sì. Eccolo. Eccolo. Cosa è un po' di servizio? Ecco qua. Un po' di servizio. Un po' di servizio. Cosa è un po' di servizio? Cosa è un po' di servizio? Ci Cosa è un po' di servizio. Eccolo. Ok, mapping l'ambicano. Cariji. Buona! 6 chorizos e 1 salchipapa Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buon appetito. Grazie a tutti. Buon appetito. 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.